Alcuni cittadini, residenti ed operatori commerciali di Torrette di Fano lamentano un'assenza preoccupante dell'amministrazione comunale su tanti nodi irrisolti di questa parte del comune fanese. Paghiamo le tasse come chi sta in centro ma non riceviamo a nostro avviso le medesime attenzioni. Sono anni che portiamo a conoscenza il comune delle nostre problematiche ma siamo inascoltati. L'aconico e sconsolato ma anche indignato il dono di chi parla ai nostri microfoni a nome di molti. Con la stagione turistica poi fonte principale di reddito per residenti ma anche di entrate per il comune di Fano, vedi tassa di soggiorno, le carenze e le mancanze balzano ancora più prepotentemente agli occhi a cominciare dalle piccole cose come le fioriere sulla passeggiata del lungomare ridotte alcune a cestini per i rifiuti mentre altre curate solo per la buona volontà e la tasca di esercenti locali per finire poi ai problemi annosi con gli scolmatori per passare anche dal canale del rio Marsigliano che ha le medesime problematiche che aveva un tempo il tristemente noto rio Crinaccio ma che a differenza di quest'ultimo che ha trovato una soluzione qui non si è fatto niente di niente. Appunto abbiamo questo problema che ogni precipitazione insistente abbiamo questo divieto di bagnazione che a livello ambientale crea problemi perché i bagnanti e i turisti per qualche giorno non possono fare il bagno, è successo nel 2016 quando ci sono stati grosse precipitazioni e allagamenti e quindi il problema è un problema che persiste da anni. Abbiamo appunto la strada comunale di mezzo che è completamente dissestata, per certi tratti addirittura bianca. Poi abbiamo i residenti di Via De Chirico che aspettano da decenni un collettore fognario, anche se qui bisogna essere corretti il sindaco ha garantito che entro il 2018 verrà appunto fatto questo collettore fognario. Poi una richiesta fatta anche le strisce a spina di pesce, ne sono state fatte due per i disabili e per il scarico è scarico, non capisco, l'assessore Fanesi al corrente e anche l'ufficio a viabilità del comune di Fanno non capisco perché non vengano fatte. Passiamo alla zona nord, il sottopasso ciclopedonale è del 1984 quel sottopasso, interventi di ordinaria manutenzione, pulizia grate, verniciatura, però quel sottopasso ha bisogno urgentemente di interventi strutturali. Chiedete maggiore attenzione a questa località? Sicuramente, ma chiediamo maggiore attenzione però ripeto qui passano le giunte, passano gli anni e purtroppo i risultati ahimè non si vedono tutto qua.